Buongiorno ragazze, adesso vorrei fare vedere voi questa cardigan quale io ho fatto in un'altra maniera, ho trovato nell'internet solo ho fatto mia fantasia, ho messo i miei motivi e quali erano piaciute di me Allora, come voi guardate davanti e indietro, reglan tutti uguali, guardate, tutti uguali queste maniche, queste maniche, quali vengono da questo reglan e questo reglan davanti questa tutta va a maniche. Voi dovete avere misura giro la testa e misura giro di braccio quali su, dove i biceps, questo voi dovete sapere. Quando voi sapete queste misure dopo voi potete costruire il vostro schermo come fare questo disegno. Io per esempio per maniche qui io ho messo due schemi di questa schemi di folie, di folie, perché dopo quando io arrivo al finale io posso aggiungere ancora quali mi mancano. Però cominciamo dall'inizio così non faccio confusione. Ragazzi, questo reglan quale va dal su e giù. Allora, questa linea reglan qui io ho messo una maglia, uguale io ho messo anche qua una maglia. Ogni giro, ogni giro io aggiungo. Allora, qui io aggiungo. Prima giro io aggiungo, altro giro io passo come è. Allora, un giro io aggiungo, aggiungo qua, aggiungo qua e indietro aggiungo qua e qua. Un giro io aggiungo, altro giro no. Quando arrivo io 5 centimetri quando arrivo a 5 centimetri, anche 7 centimetri, dopo io comincio ad aggiungere ogni giro. Sempre c'è maniera e maniera aggiungere queste maglie. Adesso io faccio vedere. Io volevo fare provino, però dopo io solo voglio fare vedere come io faccio. Dopo, più avanti, io provo a fare campioncine per vedere meglio. Per esempio, qui io ho fatto con questa campioncina 40, 40 maglie. Adesso faccio vedere come io, come io aggiungo. Allora, questa reglan ha a questa quale maglia davanti. Una. Io posso aggiungere, oppure prendere un gettato, più semplicissimo, oppure io prendo questa maglia quale tramite, tramite riglan e tramite questa maglia. Io prendo, leggermente così, giro e faccio. con altra, faccio con lana. Dopo faccio questa e la stessa maniera io aggiungo qui. Avete capito? Perciò con giro adesso come una diventa tre. Altre giro io non faccio niente. Dopo io aggiungo altra. E così io faccio cinque, sei, sei centimetri. Anche sette, così. Così io faccio. A dopo io faccio ogni giro. Ogni giro. Allora, quando noi arriviamo, quando noi facciamo la nostra lunghezza reglan, quale può essere lunghezza quindici, venti, massimo ventisette centimetri. Dopo dobbiamo fare questa cosa. Come voi guardate qui indietro più alta, qui più bassa. Questa schienale deve essere più alta, altrimenti ma le va su. A noi non bisogna. Deve essere comodo nelle nostre spalle. Cosa io faccio? Io giro nella parte indietro, parte indietro e comincia un attimo, ragazze. Io devo mettere tutte malie, malie di manica e obietto inferie. E loro aspettano le sue ore. Non tocchiamo. Abbiamo staccato e lavoriamo solo con schiena. Dobbiamo allungare minimo due centimetri, massimo cinque centimetri. Avanti e indietro. Quando abbiamo fatto avanti e indietro, abbiamo allungato qui cinque centimetri. Giriamo. Giriamo. Qui dobbiamo aggiungere sottoscele. Cinque malie, minimo, oppure quindici. Dipende dal fisico di persona, forse seno e altre cose. Può darsi anche, mancano, alcune malie. Si può aggiungere qua. Aggiungiamo questi. Aggiungiamo questi malie. Quale maniera aggiungere? Faccio vedere. Aggiungiamo con questa maniera. Quando così, voi girate una, due, una, due, tre, quattro, cinque. Però quando voi fate così, meglio con un altro giro. Così. Così diventano diritti. Ecco, avete aggiunto le vostre cinque malie e dopo voi prendete quale malie vanno davanti. Quando voi girate davanti, andate. Dopo qui, ragazze, ancora aggiungete le vostre malie, quale bisogno. E dopo voi continuate. E dopo voi continuate. Ancora tornate dove schiena. E così voi lavorate circolare. Fate la vostra lunghezza quale per voi bisogno. Finale, quando voi avete fatto lunghezza, voi decidete quale elastico voi volete mettere. Oppure voi mettete maggior parte questo fanno. Oppure voi fate come ho fatto io. Solo cambiate misura di ferie. Io faccio un po' altra perché mi è già capitato quando io facevo questa cosa e mi mancavano lana alle maniche. Adesso io faccio un po' altra maniera. Io quando comincio a fare giro io faccio tre quattro centimetri qua. Lascio nelle ferie, lascio nelle ferie circolare. Io ho fatto circolare. Dopo non perdere malie io metto teppine. Queste. E le mie malie rimangono tutti qua. Tutti qua. E io comincio a lavorare con maniche. Io prendo tutti tutti i mali quale io ho messo a parte. Dopo prendo da questi mali quale noi abbiamo preso nuovi appena nascite. Noi prendiamo quanto per noi bisogno. Cinque, sei, dieci. Quanto vuoi bisogno. E dopo voi cominciate a fare manico. Fate lunghezza quale bisogno. Finale elastica. Fate come piace lunghezza quale bisogno quale piace. Per esempio a mia bambina piace così lunghe perché abita a Wisconsin. La clima è molto freddo. Siberia. E dopo io chiudo con questa questa maniera. Questo elastico. Un diritto, un rovescio. Un diritto, un rovescio. è tutto. È tutto. Qui non c'è niente ragazze particolare. Però voglio altra cosa dire. Quando voi qui mettete voi potete oppure aggiungere altra schema di questo disegno quale voi avete messo qui sopra. Oppure potete fare così diritto. Potete fare così diritto come qua. Oppure aggiungete questo schema. Oppure fate diritto e tutta bellezza sopra rimane. Guardate. È bello. bello. Non c'è niente da dire. Guardate. Guardate che bellezza. Questo io volevo fare per voi campioncino. Questo volevo fare campioncino per voi. Però adesso io faccio vedere ancora ragazze. Allora. Questa 114 mali. Da qui e qui. Questa manica. Qui non aggiungiamo niente. Questa regla davanti. Aggiungiamo. Aggiungiamo qui. Sette centimetri. Un giro aggiungiamo. Altro giro facciamo come è. E così noi facciamo cinque sette centimetri così. Dopo noi guardiamo e cominciamo ad aggiungere. Ogni giro noi aggiungiamo mali. Solo davanti e indietro. Altra cosa ragazze. Adesso faccio vedere. Come voi guardate qui davanti. Vedete qui come vu. Però come voi valete più rotonda. Mettete qui massimo quattro. Non una. Come ho scritto io qua. Una. Massimo quattro mali voi potete mettere. Qui io consiglio lasciare come è. A qui mettete quattro come valete. Come più. Ragazzi io faccio vedere voi presto. Perché questa io devo. Deve. Deve andare via in America dove abitano. ehm mia bambini. Eh. Perciò io faccio vedere. Dopo. Io ce l'ho. Eh. Questa schema. Questa schema. Eh. Questa. Io faccio provino con voi. Faccio vedere come funziona. per questo 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 volevo a voi fare vedere. Però adesso io devo spiegare come funziona e dopo io faccio perché questo schema rimane con me. E così viene un malione. Unico ragazze, io qui ho messo questa motiva quale mi era piaciuta tanto, però quando io ho già fatto non mi era piaciuta. Perciò io penso come poteva essere motivo così subito a cominciare, poteva essere più carina. Faccio critica da solo. Ragazze, io non ho una persona quale tutta la vita tendo nelle mani ferie. Io quando ero piccolina mi ha insegnata mamma. Dopo sono stata imparata questa alla scuola perché alla scuola noi avevamo lezione per ragazze come tenere aghi, come lavorare con l'ucinetto, come con ferie. Io facevo certe cose quando i miei bambini erano piccoli però come tutti noi abbiamo difficoltà, non difficoltà, quando famiglia, cena, pranzo e dopo io questo ho lasciato perdere. Adesso come funzionato, ho cominciato a lavorare. E certe cose io, prima, no, prima ma le quali io ho fatto nelle mie le vite era mia cugina dai Dio alle salute. Questa con lei ho fatto prima. A queste cose, cosa io faccio vedere? Questa non ho le mie fantasie, ragazze. Questa l'ho presa dall'internet. C'è signore più intelligente di me. Io ho capito e questo io faccio voi dividere perché secondo me è molto bello. Intanto fai dal sopra senza una cucitura, risparmia lana. Mi piace fare, come dire, sincero, fare questa metà. Qui bisogna fare conti. Dopo lavoro molto noiosa, lunghezza corpo e lunghezza maniche. Mi piace questa cosa. Dico sincero. Questa mi piace così, questa metà quando io devo fare conti. E dopo allungare il schienale più semplice. Non come noi cominciamo a fare avanti indietro, avanti indietro. Qui solo il schienale perché questo allungare il schienale è questa, come dicono, parte di cinesi. Così loro fanno. Anche Mongolia così fanno. Parte di asiatici. E così. Dopo guardate voi. Come valete io posso aiutare. Mi date quanti metri che voi avete nel 100 grammi. Quali ferie voi volete usare per questa lana. Vi date misura vostra la testa. E questa parte grossa di manica dove spalla. Dove spalla questa parte muscola. Questo bisogna sapere. Io faccio per voi conti. Come avete difficoltà faccio volentieri. Perché io ripeto. mi piace fare conti. Mi non piace lavoro noioso. Però faccio. Faccio per le mie bambine. Quindi non solo anche il mio marito. Faccio anche a me. Io ho raccontato tutto. Come c'è domanda ragazze. scrivete. Valeva così raccontare tanto. Mi manca vocabalario. Ci sento cosa sono straniera. E valeva dividere con voi. Consigliare voi. Fare questa cosa semplicissima. divertite voi. Così stanno contenti i vostri familiari. Bimbe, mariti, nipote, sorelle. Ragazzi, io auguro a voi buon saluto. Adesso è un periodo per tutto il mondo molto particolare. Importante saluto. Felicità. E pace. Pace nel nostro mondo. Importante anche salute. Per voi. Per vostra famiglia. Usate maschere. Questa è tutta. Tutta molto importante. Fate vaccino. E buon saluto ragazzi. Ci vediamo. Io ce l'ho ancora. Un progetto. Devo raccontare. Perché io. Cosa io racconto ragazzi. Tutto io faccio. Devo fare più veloce. Perché questa va via in America. Arrivederci.